Cari ascoltatori, scende la sera e siamo sempre qui a parlare d'amore e di altre catastrofi. L'amore non è sempre tutto rose e fiori, a volte ci fa anche soffrire. Sentiamo che la persona che amiamo si allontana e prende una strada diversa dalla nostra. E allora, per tutti quelli che si ritrovano su strade diverse, a contare i battiti del loro cuore, ho scelto questa canzone. Ho girato e rigirato, senza sapere dove andare, ed ho cenato a prezzo fisso, seduto accanto ad un dolore. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? E mi fanno compagnia 40 amiche le mie carte Anche il mio crame si fa forte E abbaglia la malinconia Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Tu come vivi? Come ti trovi? Chi viene a prenderti? E ti apre lo sordello E ti apre lo sordello E ti sede Ogni mio passo E ti telefona E ti dova Tu come stai? 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 Ha ragione, Claudio. C'è sempre tempo per invertire la rotta del nostro destino. Ricordatevelo. Tu come stai? Non è cambiato, niente, no. Il vento non è mai passato tra di noi. Tu come stai? Non è accaduto, niente, no. Il vento non c'è mai questo punto. Come stai? Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Augen mode. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.